Le amministrative di Avellino ruoteranno soprattutto sul tema dell'ambiente, che però già agita lo scontro elettorale. Su Smog e Stir si dividono i candidati alla poltrona di primo cittadino e solo Nadia Arace sottoscrive i sei impegni lanciati dalle associazioni ambientaliste. Sono stata molto colpita, devo dire, dalla solitudine con cui ho firmato tutti e sei punti. In realtà quello è un appello integrale che esposa una visione che io condivido intimamente, autenticamente, cioè che mette davanti il diritto alla salute prima di ogni altra cosa. Quindi il mio gesto chiaramente è stato scontato perché è stata la sottoscrizione di una serie di battaglie dall'acqua pubblica all'ampliamento dello Stir, al capitolo sull'isochimica che in questi anni abbiamo portato avanti in Consiglio Comunale. E' il futuro dello Stir il tema maggiormente divisivo. Per Pizza, prima di parlare di delocalizzazione, serve più attenzione alla differenziata. Secondo Cipriano la risposta seria non è chiudere l'impianto ma impegnarsi a ridurre l'impatto ambientale di un mostro fuori controllo. Per Sabino Morano occorre un tavolo permanente con la partecipazione dell'intera vale del sabato contro l'ampliamento dello Stir, mentre per Dino Preziosi va creata una sinergia territoriale con i comuni limitrofi. Ciampi propone un referendum pubblico sulla delocalizzazione dell'impianto. Infine la posizione di Passaro, se spostassimo l'impianto avremmo lo stesso problema altrove.